Noi stiamo predisponendo tutti gli atti che poi saranno presentati al prossimo Consiglio Comunale per l'affidamento in house. Noi replicheremo un modello che abbiamo avuto negli ultimi due anni con la gara europea, la comparazione del nostro modello e quello del mercato che abbiamo già avuto. Procederemo inizialmente con questi sei mesi di sperimentazione dove saranno effettuate poche modifiche, poi aggiungeremo tutti i contorni, le migliorie che noi vorremmo apportare con l'affidamento in house perché riteniamo che con la sommatoria di servizi che noi possiamo offrire sulle strade possiamo migliorare anche qualitativamente il servizio ovviamente tenendo un occhio particolare ai conti in ordine che non devono sforare determinati parametri. Rispetto a questi due anni con la ISAM lei parlava di migliorie per esempio, che cosa pensate di aggiungere? Allora noi abbiamo sicuramente la possibilità di aprire un cantiere ogni giorno con lo spazzamento che poi si va a completare con il taglio dell'erba, quindi già questo rappresenta un efficientamento. Poi abbiamo anche delle piccole cose che noi non abbiamo curato secondo me a dovere in questi anni come le siepi, come alcuni altri servizi che vengono fatti nella città, riteniamo che uniformando l'appalto riusciremo meglio a gestire queste vicende. Separeremo ovviamente il verde verticale, cioè quello che viene fatto tipicamente dalle imprese specializzate che rimarrà nelle grinfie del verde pubblico, quindi distinguendo queste funzioni potremo affrontare meglio le problematiche e il tema delle manutenzioni. Questo è l'efficientamento che noi immaginiamo nell'arco del prossimo contratto di servizio che noi avremo con Salerno Pulita.